Buongiorno da Luca GS Telefonia Qui abbiamo un connettore coarsiale dell'antenna di un iPhone 4 piegata dal nostro cliente Ha cambiato il display in autonomia e oltre a aver procurato qualche danno al telefono adesso ci sono delle cose che non funzionano più come dovrebbero Qui abbiamo il connettore coarsiale che è stato piegato una vite con doppio filetto tranciata dalla scheda madre una vite a spasso che dovrebbe essere avvitata insomma non sempre cambiare i pezzi in autonomia è conveniente in questo caso ecco la vite che manca vedi che gira in più mancava quella lamella la lamella che va a fare il contatto per il wifi quella posizione lì era mancante viti spannate ovunque niente procediamo alla riparazione questo è tutto da Luca GS Telefonia scusate la ripresa tremolante grazie grazie grazie